Boom di partecipanti al Pink Day 2019, la giornata di avvicinamento alla palla canestro organizzata dalla sportiva Basket Sondrio, in programma sabato 13 aprile al Palasce Ghipini dalle 13.30 alle 16.00. 105 le bambine che si sono già registrate all'evento, tant'è che gli organizzatori hanno dovuto chiudere le iscrizioni, diversamente non sarebbero in grado di introdurre in modo adeguato le aspiranti cestiste al mondo del basket. È una giornata dedicata esclusivamente alle bambine per avvicinarle al mondo del basket. Di che età? Partiamo dai 6 anni fino ai 10 anni. Incontrate di solito attenzione da parte delle bambine di questa fascia d'età? Sì, se gli diamo modo di esprimersi troviamo l'attenzione. Dipendentemente dall'altezza? Non conta niente quello, assolutamente, anzi. Cosa fate durante la giornata? Durante la giornata faremo giochi per avvicinarli proprio alla conoscenza del mondo palla, del canestro, cose molto semplici che però magari permettono alle bambine di capire come funziona la palla canestro. Un gioco di squadra interessante e movimentato che sta incontrando parecchio favore fra le ragazze, con soddisfazione anche da parte della società, interessata a coltivare un vivaio di giovani aspiranti cestiste, capaci poi di andarsi ad inserire nelle compagini già esistenti. Abbiamo capito che il basco femminile può dare delle grosse soddisfazioni, perché abbiamo delle squadre attualmente molto forti, abbiamo una serie C, abbiamo un anno 18 femminile, abbiamo una under 13 femminile che sta crescendo grazie ai nostri bravissimi allenatori che si stanno impegnando. Sicuramente dobbiamo creare adesso del terreno fertile, creando giocatrici che andranno poi pian piano crescendo, andando a sostituire i giocatori che adesso fanno le prime squadre. Quindi bisogna partire dai piccolini, allevarli, farli appassionare alla palla canestro, fargli conoscere cos'è la palla e cos'è il canestro e appassionarsi. Una politica lungimirante proprio di chi ha toccato con mano il valore della compagine femminile, la ferrea volontà di emergere e di dare il massimo in squadra. Valori sportivi sposati anche dall'Avis comunale di Sondrio, sponsor dell'evento, e che ha predisposto la Pink Day T-shirt personale, che verrà consegnata a tutte le bambine partecipanti. Obiettivo? Sensibilizzare le ragazze fin da piccole al tema del dono. Una campagna nelle palestre in cui Avis Sondrio crede molto e che ha già portato i propri frutti. Già dall'anno scorso abbiamo voluto anche sostenere l'iniziativa del Pink Day, che chiaramente coinvolge bambine, giovani, che potranno diventare un domani delle donatrici. L'anno scorso già fra la squadra delle ragazze due diciottenni si sono iscritte. Questo è molto bello e già quest'anno, al di là degli ambienti sportivi, vediamo che tanti diciottenni rispondono positivamente.